Ecco i metalmeccanici dell'energia, noi da lì partiamo dal ferro e lo dico con l'orgoglio della grande fabbrica che abbiamo a Trieste, che fa motori e li distribuisce nel mondo. Allora quando mi è stato chiesto da Raffaele e da Laura di citare la nostra parola, la prima cosa che ho pensato è guardiamo nel nostro portafoglio, allora ha detto motori, i nostri motori producono 1% dell'energia nel mondo ma è poca cosa, l'energy storage che abbiamo recentemente acquisito, il biometano che stiamo producendo con i nostri impianti, piuttosto che la digitalizzazione che è sicuramente più interessante, più avveniristica rispetto ai motori, pistoni, bielle eccetera eccetera. Da questo punto di vista potevamo aggiungere efficienza, flessibilità, molte delle cose che sono state dette questa mattina sono assolutamente condivisibili e sicuramente le sfide e la sostenibilità. L'argomento che abbiamo scelto noi è la mescolanza, la mescolanza in quanto capacità di mettere insieme elementi diversi per un obiettivo. Allora i nostri 25 lettori, navigatori che ci seguono da anni sul nostro sito web, hanno visto che nel tempo siamo passati dal produttore del motore e quindi con la descrizione di tutta la bellezza della meccanica a una visione del mondo che oggi lo trovate è verso il 100% a fonti rinnovabili. Ma è un cammino, un passaggio dove riteniamo le tecnologie possano e debbano partecipare in maniera diversa. Non possiamo buttare quello che è stato fatto di buono. Prima si è parlato di fotoni, si è parlato di Einstein, ha preso il Nobel con gli esperimenti sul fotoelettrico, inizio 1900. Sulle fibre ottiche di cui si parlava ancora prima, ricordo, ci ho fatto la tesi a fisica. Quindi ci sono cose che stiamo implementando ora, cose che hanno una storia e che stanno diventando importanti in questo momento. La mescolanza delle tecnologie, la mescolanza della capacità di mettere insieme delle idee, sono le sinergie che abbiamo sentito poco fa, è fondamentale. È fondamentale dal punto di vista tecnologico e fondamentale dal punto di vista normativo. Quindi la capacità di immaginare dei sistemi che siano sufficientemente complessi e ci aiutino nel percorso di decarbonizzazione. Faccio un esempio e vado alla conclusione. Un esempio molto semplice è in questo momento in Nord America è stata fatta una scelta di puntare sulle fonti rinnovabili, ridurre gli impianti a carbone e inserire elementi di efficienza e flessibilità dato dalle tecnologie che possiamo dire sufficientemente di esperienza come i motori a gas. Il gas ha un ruolo fondamentale nella transizione, è un cammino che deve vedere la partecipazione di tutte le tecnologie verso il sistema migliore che possiamo ottenere. Triplicare le fonti rinnovabili, il fotovoltaico e duplicare l'eolico è un percorso molto sfidante che richiede la partecipazione di tutti. Da questo punto di vista credo che gli studenti del SAFE debbano essere gli alchimisti del terzo millennio, non richiusi nel vicolo d'oro a Praga ma nel mondo, per mettere insieme questi elementi e portarci aiutare ad arrivare a questa transizione. Grazie. Grazie. Grazie.